Buongiorno, la ringrazio. Lei ha parlato della grande disponibilità di casi e della casualità nel web e per internet e google. Volevo chiedere una specificazione, un approfondimento su questo e anche gli strumenti per orientarsi in questo ambito. Anch'io uso google per trovare delle risposte a delle domande, qualcosa anche di banalissimo, qualcosa che posso trovare in una voce di wikipedia, in linea di principio andrà verificato ma una data di nascita poniamo. Ora, anche la data di nascita può essere soggetta a dubbio ma è una risposta a una domanda. Quello che però mi pare interessante è un uso obliquo della rete in cui non si tratta solo di trovare delle risposte alle nostre domande ma di imbatterci in domande inaspettate che possono generare altre domande. E poi mandarci in biblioteca, anche se naturalmente tanti libri sono disponibili in rete e non tutti. Ora, quest'idea di trovare delle domande inaspettate è un uso obliquo della rete nel senso che non solo ammette ma in qualche modo cerca il rumore. Credo che si chiami tecnicamente così un anglicismo, noise, cioè qualcosa che non fa parte della nostra domanda ma è di contorno. Allora, questo girovagare per la rete, trovando domande inaspettate che ci rinviano a qualcos'altro, allora è qualcosa che a mio parere non è inutile anche se, e questo lo dico mentalmente riferendomi ai miei interlocutori e interlocutrici che mi rimproverano questa sottolineatura del caso dicendo sì però dall'altra parte c'è chi fa ricerca, ma certo, c'è un'interazione, è ovvio che diciamo io reagisco in un modo e un altro reagirà in un altro. L'idea della tabula rasa di fronte a Google non ha senso, se non altro perché ci chiede di saper leggere, ma comunque voglio dire questa interazione è necessaria e io credo che quest'uso di Google rinvii agli insegnanti in carne ed ossa, non a Google, perché per imparare a usare Google in questo modo, io dico sempre, il motto è la parola politicamente scorretta di Gesù riferita da Matteo, a chi ha sarà dato. Quindi a chi ha in senso diciamo culturale e sociale, come sappiamo dopo Bordieu, Don Milani, chissà quanti, non è vero. Quindi voglio dire l'educazione, è la scuola che cerca di correggere le disparità sociali, ma diciamo l'educazione, e quindi il rapporto con gli insegnanti in carne ed ossa è richiesto per poter usare la rete in questo modo. E però c'è un di più che ci viene dato dalla rete, nessun insegnante potrà diciamo elargire tutto questo rumore in cui possiamo trovare come in un gigantesco fianile elettronico delle perle inaspettate.